Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, domani mattina tra le 9 e le 13 in programma una manifestazione sindacale a Piazza del Popolo, sempre domani nelle stesse ore dalle 9 alle 13 in programma anche un corteo, una manifestazione studentesca tra Piramide e Trastevere. Saranno possibili temporanee chiusure e deviazioni per ventiline del trasporto pubblico. Le altre notizie, quella in arrivo sarà domenica ecologica, è previsto lo stop al traffico privato nella fascia verde con alcune deroghe tra le 7.30 e le 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30. Grazie